Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, o Dio, vieni a salvarvi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immapolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, Santi Genitori, Santi Vescovi, Sacerdoti e Diapone, per venti religiosi, religiosi e missionari, alla frattuosa. Preghiamo meditando i misteri del dolore. Il primo mistero ci porta nell'orto di Gesù. Gesù prega, soffre, fino a sudare sangue, mentre prende su di sé il peso che non possiamo neanche immaginare, i peccati dell'umanità. Il santo Cagnere Newman diceva, soltanto un amore infinito poteva pensare e sopportare una simile passione. Poverai aggiungere un pensiero, accanto al sangue di Gesù, mettiamoci anche le lacrime di Maria. Pensate, nel 1953, alla fine di agosto, per quattro giorni, un'immagine della Madonna a Siracusa cominciò a mandare lacrime. Tagli occhi scivolati, lacrime abbondanti. In una casa, in una camera da letto, sopra una donna che aspettava la lascia di un bambino. Il messaggio era chiaro. La Madonna ha pianto per quello che sta accadendo nelle famiglie. Quando un padre, non è più padre, che cos'è? La mostra. Quando una madre non è più madre, non è capace di fare qualsiasi servizio per i figli. Cos'è? La mostra. Poi oggi, quante famiglie sono così. Maria Teresa diceva, il più grande dono che un padre può fare ai figli è amare la loro madre. Il più grande dono che una madre può fare ai figli è amare il loro padre. Se non si capisce più questo, si hanno lo sguantamento totale. Accanto al sangue di Gesù, mettiamoci l'avvertimento delle lacrime di Maria e preghiamo per le famiglie. Padre nostro che se ne siedi, ci ha santificato il tuo nome, venga il tuo regno, ci ha fatto la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie a tutti i suoi amici, e che è il nostro Signore, con la tua volontà, con la tua volontà, con la tua volontà, con la tua volontà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fare donna, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fare donna, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fare donna, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fare donna, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fare donna, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fare donna, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fare donna, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fare donna, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, e benedetto è il frutto del tuo seno, e benedetto è il frutto del tuo seno, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fare donna, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Ave Maria, e benedetto è il frutto del tuo seno, e benedetto è il frutto del tuo seno, o Gesù, perdona le nostre volte, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, domando perdono, per quelli che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amo. Per intercessione, di Maria Immacolata, e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diavoli, per venti religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore, ci mette davanti Gesù, che viene crudelmente, fragellato dai peccati. Ma veri fragelli, appunto, non sono i peccati, perché sono picconate, che noi diamo, all'opera bella, della creazione, di una creata bella, equilibrata, armoniosa, i peccati sconvolgono, l'armonia della creazione. Pensate, oggi, quanta aggressione avviene, loro, contro la creazione di Dio, e ci lamentiamo, poi, di quello che succede, fai da nostro. Gesù, e se ne scendi, se ne scendi, se ne scendi, la natura di Dio, e la natura di Dio, salta la tua donna, con il segno di Dio, e la natura di Dio. prega per noi, prega per noi, se ne scendi, santa Maria, madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amico, santa Maria, prega per noi, grazie, santa Maria, prega per noi, santa Maria, madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amico, santa Maria, prega per noi, grazie, santa Maria, santa Maria, madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amico, santa Maria, madre di Dio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Amo Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Amo Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Amo Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Amo Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Gloria al mondo, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era il principio sempre, dei secoli, dei secoli anni. O Gesù, perdona le nostre morte. Preservasi dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le animi, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Io Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando il perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria immarvolata di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diamoni, per venti religiosi, religiose e missionari, alla Tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù coronato di Spine. Non immaginate la corona, come quelle che si vedono molto eleganti nei prossimissi di oggi. La colazione di Spine era un casco di Spine, di rovi, presi forse in un angolo al percorio e messi in testa. Tant'è vero che, nella Sintone, ci sono piaghe in tutta la parola cranchita e addirittura si vedono anche qui sulla fronte, frioli di sangue, pensate che umiliazione, sicuramente Gesù l'ha accettata, in riparazione di tutto l'orgoglio che sta dilagando nel mondo. Padre nostro che si dice, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E tu sei benedetto tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Il quarto mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene caricato nel pesante legno della croce, il paro trasversale che verrà poi conficato nel paro epinale. Ebbene, mentre porta la croce, Gesù è accompagnato fedelmente dalla sua madre, sempre accanto fino all'ultimo respiro sulla croce. Davvero Maria è la Vergine fedele, l'immagine della fedeltà. Oggi molti non capiscono più l'importanza della fedeltà. Pensate davanti a Dio a un colore così alto che Dio si fa chiamare sempre Dio misericordioso e fedele. Chi smarrisce la fedeltà, smarrisce anche il senso di Dio, il valore di Dio, il volto di Dio. Padre nostro. Danci oggi il nostro male quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. gloria al Dio e allo Spirito Santo, come era il principio e sempre, nei secoli dei secoli anni. O Gesù, perdona le nostre morte. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Dio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, Santi Genitori, Santi Vescovi, Sacerdoti e Diaboni, per venti religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci invita a posare lo sguardo su Gesù Procifisso. Immaginiamo un momento della Procifissione. Gesù è inchiudato alla croce, con una posizione di dolore inimmaginabile per noi. Non possiamo capire quanto soffrivano i Procifissi, soprattutto per poter respirare. Immaginate, devono far forza sui piedi e sulle mani, per poter aprire il petto. Non riescono anche a immaginare il dolore. Quindi in quella posizione Gesù sente un condannato, un condannato a morte. Qui è sicuramente un uomo che ha fatto delle malefatte, poi mette anche gli omicidi. Ebbene, questo uomo resta commosso dal comportamento di Gesù. Forse resta commosso dalle parole. Padre, te lo donali. Allora si commuove. Hai il coraggio di dirgli, Gesù, ricordati di me quando sarai del tuo regno. Se parlavo al crocifisso, immaginate che fede che aveva questo uomo. E improvvisamente nel suo cuore è venuto fuori tutto il potenziale di bontà che era nascosto. Gesù vede e sente e percepisce una grande sincerità in quelle parole. Non dice perdonare, ma ricordati di me. E Gesù fa la più bella promessa. Te lo prometto, ci sarai con me in paradiso. La scrittrice francese, Simone Weil, una donna molto impegnata per l'altra favore dei poveri, un giorno disse che in tutto il Vangelo io invidio soltanto un personaggio di buona droga. Perciò ti aspetta la ragione. Padre nostro che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come il cielo e così te ne prendi. Lasciò il nostro Padre, un grande, che vedete a voi i nostri piedi, con la natura di 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 voi i nostri piedi, Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. O Gesù, perdona le nostre colte, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Io Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessioni di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diacoli, per venti religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Visi nel Signore di M�te. Sanche i Iriči in Salle, prendi la loro stagione al Signore Per interessioni di vita. Sanche i Iriči in Salle, Visi nel Signore. Visi nel Signore, Visi nel Signore e di Lammare, Per interessioni di Dio, tro black e di rilevanza, per interessioni di Dio, Questa i Iriči in Salle, Frutto benedetto del nostro sede, o clemente, o via, o non c'è niente di mani, Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre Celeste, che sei Dio, figlio Redettore del mondo, che sei Dio, Spirito Santo Amore, che sei Dio, Santa Pionità, Unico Dio, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergine, prega per noi, Santa Maria, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Padre della misericordia, prega per noi, Santa Maria, prega per noi, Madre della divina grazia, prega per noi, Madre della speranza, prega per noi, Madre buonissima, prega per noi, Santa Maria, prega per noi, Madre della misericordia, 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 prega per noi, Grazie a tutti. 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 Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Sai quanto ci parliamo di Dio che togli i peccati del mondo. questi nodo di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi. Che il Signore sia con voi. Che con il tuo spirito. Sto benedetto il nome del Signore. Che con il tuo spirito. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che gli ha fatto cese e terra. Vi benedito, vi proteggo e vi liberi da ogni male, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.